Impresa storica dei Biancazzurri che spugnano il Trastevere Stadium e l'omonima squadra per 0-2 con i gol nel primo tempo di Barlafante e nella ripresa di Minincleri. Prossimo turno, altra sfida al vertice per i Rivieraschi contro la Recanatese allo stadio Mariani Pavone. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo un avvio contratto con un buon Pineto, la squadra ospite ha una ghiotta chance al minuto 8. Barlafante, ben imbeccato, trova un super Semprini a negargli il gol del vantaggio. Gli Adriatici ci riprovano al quarto d'ora ma l'estremo di casa blocca senza problemi. I ragazzi del presidente dottor Silvio Brocco giocano a testa alta. Barlafante all'Alberto Tomba conclude dall'area piccola cestinando e calciando alto. Poco male per l'ex Giulianova che riesce a mettere la freccia del sorpasso al 28esimo su imbeccata centrale. Questa volta tu per tu con Semprini rimane freddo e in sacca. Allo 0-1 la risposta Granata arriva 120 secondi dopo con Massimo ma il portiere ospite smanaccia in corner. I trasteverini non ci stanno ma il Pineto si difende bene. I padroni di casa vanno a millimetri dal vantaggio. Cross di Macri, Fioretti spizzica ma Mercorelli con l'aiuto del legno e di un pizzico di buona sorte conserva incredibilmente lo 0-1. Gol mangiato, gol subito. Minincleri dalla parte opposta a tu per tu con il portiere. Di casa non può proprio sbagliare e confeziona un pesantissimo raddoppio. Nel finale Cascione potrebbe confezionare il trist ma la difesa avversaria si salva per il rotto della cuffia. Triplice vantaggio sfiorato anche da Paoli. Il suo calcio di punizione esce fuori. Non succede più nulla. Risultato storico per il Pineto che spugna il Trestevere Stadium per 0-2. Allora, quando riguarda la gara di oggi, sapevamo che dovevamo fare una prestazione sopra le righe. I tabellini parlavano chiaro, il Trestevere in casa, noi vittori e un pareggio, quindi sapevamo che era una gara difficile. Però eravamo consapevoli della nostra forza, quindi l'abbiamo preparata in un certo modo. E' quello che mi soddisfa, che l'abbiamo interpretata bene fin dal primo minuto. Sicuramente la prima frazione, l'1-0, ci stava stretto, come avete visto dalle occasioni create e anche con la qualità di gioco che abbiamo messo in pratica. Poi poteva succedere il pareggio nel secondo tempo del Trestevere, anche se Minincleri e della Queccia hanno avuto un paio di occasioni per chiudere prima la partita. E' stato bravo il nostro portiere a fare un grandissimo intervento, però per quanto rivisto nell'arco di 90 minuti, penso che non è un Dio che abbiamo dominato, ma abbiamo meritato la vittoria nettamente. Per quanto riguarda la prossima gara con l'area canatese, è chiaro, affrontiamo la prima classifica, quindi anche per domenica occorrerà una prestazione importante. Questa è la terza gara in tre partite, in tre eneno settimana. Abbiamo qualche giorno in più per prepararla, recuperare un po' qualche acciaccata, un po' di energie fisiche e poi, come dico sempre, il risultato passa sempre attraverso la prestazione della squadra. Certamente, direi prima di tutto che non è stata una bella partita disputata dal Trestevere, tuttavia nel secondo tempo avremmo meritato senz'altro il pareggio, perché abbiamo avuto numerose occasioni, anche se, come ripeto, non è stata una delle migliori prestazioni del Trestevere, tanto è vero che abbiamo perso la prima partita in casa su, credo, 12 partite. Speriamo di rifarci nelle prossime gare, ma diciamo che era gol, i dirigenti del Pinedo sono nostri amici e mi è stato detto da loro stessi che il portiere ha ammesso che ha ricacciato la palla ampiamente oltre la linea del gol.